Grazie, grazie, andiamo avanti. Adesso abbiamo un riscatto, potremmo dire che gioca in casa, infatti chiamiamo qui sul palco, il presidente della Fondazione Italiana Sommelier, signore e signori, Franco Maria Ricci. A me tocca nessuna disgrazia, però disgrazia, nel senso che vorrei occuparmi, fra un po' me lo fate vedere, di questa roba qua. Ora, questa roba qua me la fai passare un pochino? Dai, vabbè. La fate? Non è male, no? Vedete, ci sono bicchieri pronti per bere, questo dovrebbe essere un calcio. Arrivano le altre o no? Ok, arriveranno. Arriveranno delle dimostrazioni che esiste un lusso. Ora, nelle nostre metropoli, il lusso, quando parlo di scuola alberghiera, voi sapete come la penso, e forse tratterò questo messaggio anche con il signor presidente, perché lo Stato non crea un ambiente idoneo alla cultura del vino e del cibo, però sta succedendo questo, che il lusso sta scemando nelle metropoli del nostro paese, ma sta scemando perché il lusso non ha una recezione così importante, perché congressi, incontri particolari, eccetera, eccetera, non concedono quel relax che una volta poteva concedere anche una città come Milano e come Roma. Il riscatto qual è? Che anche qui il vino ci ha messo lo zampino. Il vino ha creato Camere su Vigna. Un momento storico per noi è stato quando ci è arrivato il messaggio attraverso dei testi, dei libri di aziende vinicole che hanno fatto dei particolari resort di grandissimo lusso. Quindi la possibilità di dare l'opportunità a chi può farlo ad avere una cosa importante nell'ambito delle aziende vinicole, cioè lasciare la metropoli, avere l'opportunità di avere un grande lusso, un grande albergo, una grande recezione alberghiera sulla vigna. Questi due si stanno a sposare lì, non so, si sono sposati già. E hanno deciso di sposarsi in mezzo alla vigna. Oppure viceversa è successo che molte cose, ecco, vedete questo ingresso di questo albergo, la qualità, il lussuoso di questo albergo, sta in qualche modo supportando la deficienza di queste nostre metropoli che un po' stanno lasciando questo famoso lusso alberghiero. Ecco, secondo me è importante. Noi ci occupiamo dalla mattina alla sera di ospitalità, perché il vino è un lusso, il vino è un lusso conoscerlo, il vino è un lusso capirlo, è un lusso guardarlo e sentirlo, comprenderlo e gestire la sua tradizione, le sue diversità, la sua grandezza culturale. E noi non possiamo più pensare di entrare nei nostri corsi, nelle aule dei nostri corsi con i pinocchietti, ma dobbiamo entrare con la qualità anche del vestire. Cioè dobbiamo o ritornare, dire ritornare significa dire una cosa vecchia, ma tornare a capire che stiamo entrando in un ambiente che non è soltanto come il Rom Cavalieri, per cui sei in un albergo, per cui vai a fare un corso a Rom Cavalieri e per cui devi essere vestito carino da prima comunione. No. Dico che tutto quello che è, è il rispetto. Ma perché noi non rispettiamo? Quando raccontiamo il vino nell'aula e raccontiamo la diversità delle forme del bere, le diversità delle bottiglie, perché noi non raccontiamo il modo di servire il vino, perché noi raccontiamo questo e non diciamo, e diciamo spesso, e raccontiamo il perché, per il rispetto. Per il rispetto di quel liquido che sta dentro le bottiglie, che è al lavoro di uomini e donne di questo paese e del resto del mondo. Per il rispetto di un... Quindi rispetto delle forme del bere, rispetto della bottiglia, rispetto del vino, ma rispetto anche del piacere di avere un'opportunità, un'ospitalità. rispetto che il vino deve, in qualche modo, essere protagonista. Cioè, non possiamo avere una carta dei vini di 3.000 etichette e non rispettare questa contenenza, questa cantina, questo lusso di questa cantina, questo lusso di poter avere queste etichette di vino, questo lusso di poter farla assaggiare, questa permettività che dà questa possibilità a tutti di bere i grandi vini del mondo. Ecco, noi di questo ci occupiamo e di questo ci siamo resi conto che c'è stata una presa di coscienza diversa da quella che una volta era Milano e a Roma e quindi vogliamo in qualche modo dirvi che il vino, la cantina, i resort hanno supplito a questa deficienza. Grazie a Franco Ricci, presidente della Fondazione Italiana Sommelier. Andiamo avanti con altre storie. Grazie a tutti.